Boom di prenotazione per i vaccini nelle farmacie. In cinque giorni già coperte le agende di due settimane e ora si iniziano quelli per la prima di settembre. Le prime dosi sono arrivate martedì e entro la fine delle settimane i farmacisti e i pratesi avranno vaccinato oltre 150 persone. Le farmacie che hanno aderito all'iniziativa sono 25, ma molte sono chiuse per ferie o lavorano con meno personale. La regione toscana per ora riserva la singola farmacia che praticamente è di 24 vaccini a settimana e noi abbiamo le agende già piene, le sessioni vaccinali di agosto sono complete, stiamo già prendendo prenotazioni anche per settembre. Tante anche le richieste di tamponi che grazie a una convenzione a cui hanno aderito 13 farmacisti costano 8 euro per i minorenni e 15 per gli over 18. A livello giornaliero sono circa una cinquantina al giorno, la maggior parte sono negativi, positivi se ne trova dai 2 ai 5 al giorno massimo, la maggior parte è per le partenze, se no ci sono stranieri per il lavoro. Un po' per andare in palestra perché non ho ancora il Green Pass. Intanto però i farmacisti lanciano un appello. Se venite con 4-5 tessere sanitarie per farvi stampare il Green Pass, arrecate al servizio della farmacia un rallentamento, però ci sono tanti metodi per poterselo fare da solo, perlomeno provate.